Per commentare intanto questo pareggio, non credo possa accontentarvi Edoardo. No, 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 quello sicuramente no. È stata una partita abbastanza complicata, sia per il campo che comunque non ci ha permesso di esprimere appieno il nostro calcio, sia perché comunque gli avversari ci hanno concesso veramente poco, ci sono chiusi dietro e abbiamo avuto pochi spazi e quindi pochi tiri in porta. Nel primo tempo probabilmente è stata la tua la giocata più bella della partita, quando hai mandato in profondità Merola con una giocata davvero un tocco rapido in profondità, però peccato che questa sera forse Merola non era brillante come domenica scorsa. Sì, vabbè, capita. Queste sono comunque giocate che proviamo in allenamento, con Merola io ci ho già giocato, quindi ci troviamo e speriamo di trovarci più spesso nelle prossime partite. Nel finale, Edoardo, quando sono entrati Cuppone e Aristidi, Colai e Landria vi aveva lasciato un po' di campo, tuo colpo di testa fuori di un soffio, poi un minuto dopo Cuppone alto di poco, lì potevate provare a concretizzare meglio? Sì, no, sicuramente, quello sicuramente, però come hai detto tu poi eravamo più offensivi, quindi qualche occasione in più è arrivata, ma sta di fatto che sempre da cross, perché comunque loro erano comunque chiusi, chiusi in mezzo e quindi dovevamo andare sugli esterni. Prima di una domanda da studio per Edoardo Vergani, io voglio tornare indietro di qualche settimana, Edoardo, quando avevi detto che ti avrebbe fatto piacere avere più continuità, è andato via tutta, ora la continuità che chiedevi la stai trovando. Sei contento di come stai andando in campo? Sì, 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 sono soddisfatto per le mie prestazioni, poi oggi dispiace non aver trovato il gol, però non si può sempre fare, anche se lo vorrei e adesso speriamo di trovare lo stesso spazio che sto trovando ora. Studio, una domanda per Edoardo Vergani. Fabio, no, io a Edoardo volevo chiedere la stessa cosa che ho chiesto al mister, chiaramente con un'ottica diversa, a lui ho chiesto se era possibile rivedere il Pescara con il doppio centravanti dall'inizio, a te chiedo invece se ti piace giocare e se per le tue caratteristiche, secondo me sì, giocare con una punta vicino potrebbe agevolarti parecchio perché potrebbe liberarti un po' dal peso della doppia marcatura dei difensori centrali e con le tue qualità potresti usufruirne molto, secondo me, di questa scelta se dovesse avvenire. Sì, sì, sono d'accordo. In passato io ho giocato sia a due che a uno e mi trovo bene in qualsiasi caso. Comunque io e Falco abbiamo anche caratteristiche diverse, quindi secondo me ci completiamo anche, però queste scelte qui non sta a me farle, ma l'allenatore. Io ti faccio proprio l'ultima considerazione, perché non l'abbiamo fatta con nessuno, lo chiediamo a te Edoardo. Qualche settimana fa sembrava così scontata la vittoria contro la Viterbese con quel gol in extremis di Marco Delle Monache. Questa sera la Viterbese ha battuto il Catanzaro, evento storico per questa stagione. Sì, sì, questo dimostra che comunque è un campionato combattuto, non ci sono risultati sicuri e tutte le partite sono da giocare perché non ci sono risultati scritti.